buona giornata buon martedì buon tre luglio amiche amici no non sono a farmi una scampagnata guardate alle spalle che incredibile campagna toscana campagna senese o non sono in vacanza ma sono a dimostrare che lo stato è meglio della mafia lo faccio in vostra compagnia con questi splendidi panorami siamo in un'azienda agricola 700 ettari di tenuta agricola lo vedete alle mie spalle con piscina che è stata sequestrata ormai più di vent'anni fa a un boss mafioso che era venuto qua a godersela e a spassarsela e sono qua perché lo stato deve dimostrare che è più veloce più bravo e più efficiente della mafia crea posti di lavoro e deve restituire questo patrimonio ai cittadini questa villa con 700 ettari di terreno guardate alle mie spalle tutta proprietà di questa villa sequestrata questo mafioso nelle campagne senesi ebbene sequestrato ormai 24 anni fa non ci si possono mettere 24 anni per restituire alla comunità questo bravissimi gli amministratori che fino ad oggi ci hanno lavorato pensate che sono solo cinque le persone che lavorano qua la villa del boss mafioso è stata trasformata in un agriturismo dove ci sono bambini clienti e turisti ci sono pecore ci sono maiali cintesenesi c'è coltivazione di grano duro c'è olio d'oliva ma soprattutto c'è lo stato che vince sulla mafia è questo ci sono 15.000 beni che negli anni passati lo stato ha sequestrato ai mafiosi dobbiamo riutilizzarli bene e in fretta bene e in fretta trasformandoli in scuole in asili in case di riposo in commissariati della polizia di stato e dei carabinieri in strutture alberghiere che portino soldi nelle casse dello stato qua ci sono i turisti che pagano non ci sono i finti profughi che vengono a farsi il bagnetto in piscina tanto ci sono gli italiani che li mantengono con 35 euro al giorno arricchendo le finte cooperative quindi messaggio chiaro ed evidente ai bastardi mafiosi camorristi e indranghetisti l'italia non sarà più il vostro paese dedicherò ogni mia energia giorno e notte per combattervi via per via negozio per negozio azienda per azienda quartiere per quartiere provando a sequestrarvi anche le mutande che portate addosso voglio un'economia sana pulita trasparente rendo onore ai tanti amministratori locali sotto scorta perché ai minacciati dalla mafia ai tanti giornalisti ai tanti giudici e magistrati che stanno rischiando la vita per combattere nei fatti la mafia e io preferisco l'antimafia dei fatti non quella delle parole delle chiacchiere degli show televisivi o del business quindi l'antimafia dei fatti quella di falcone borsellino quella del giudice rosario livatino quella dei tanti sindaci di paesi dalla lombardia alla calabria che combattono da soli che vengono intimiditi con tutti i miei limiti senza essere superman sappiate che il ministro è a vostra disposizione la mia prossima missione antimafia sarà in calabria per consacrare il fatto che otto appartamenti sequestrati all'andrangheta diventeranno un commissariato della polizia di stato ovviamente mi occupo di migrazione di difesa dei confini ma non solo di quello a proposito lo dico i fenomeni di sinistra che dicono che la mia linea dura intransigente isola l'italia in europa siamo così isolati che oggi pomeriggio sentirò il collega tedesco poi ministro dell'interno per concordare insieme la lotta ai trafficanti di esseri umani risentirò il collega francese siamo in contatto con gli austriaci con gli ungheresi ricercherò i polacchi e i portoghesi coi maltesi ormai c'è un canale aperto quindi finalmente l'italia torna centrale non siamo mai stati così ascoltati così considerati ovviamente non si fanno miracoli in un mese però io ricordo a me stesso e voi che siamo al governo da un mese e penso che in un mese abbiamo riconquistato orgoglio onore dignità e ascolto e rispetto soprattutto che non ha prezzo il rispetto non ha prezzo in sede europea se tre barconi nell'arco di un mese col loro carico di disperati non sono arrivati in un porto italiano ma sono andati altrove è perché qualcuno in italia ha alzato la testa è perché qualcuno in italia ha ritrovato l'orgoglio di dire no quindi per le navi che aiutano gli scafisti i porti italiani sono e continueranno a essere sigillati non sta scritto da nessuna parte che tutti quelli che partono debbano arrivare in italia anche perché più ne partono più ne muoiono guarda caso avete visto il colpo di cosa del coda degli scafisti con questi naufragi improvvisi negli ultimi giorni quasi a voler dire è colpa di salvini riaprite i porti fate lavorare delle ong così noi continuiamo a far quattrini no cari miei deve essere chiaro che non si parte e quindi non si muore più arriva in italia chi ha diritto di arrivare in italia chi scappa davvero dalla guerra e non ci arriva col gommone ma ci arriva in aeroplano per tutti gli altri non si parte e non si arriva sono soldi spesi male quelli che date agli scafisti ai mafiosi anche perché come diceva qualche intercettato di mafia capitale se l'immigrazione rende più della droga con me e con questo governo l'immigrazione smette di essere un affare quindi lo dico ai finti cooperatori ai finti albergatori ai finti imprenditori che hanno fatto i milioni di euro in questi anni sulla pelle degli italiani sfruttando questi disgraziati è finita la pacchia è finita la pacchia con tutti i miei limiti da cittadino italiano e da papà non da ministro per mafiosi e scafisti l'italia è l'ultimo paese dove fare affari adesso mi piacerebbe portarvi a vedere ecco magari giro la telecamera per farvi vedere questa splendida villa pensate ci sono 15 fabbricati 15 casali in questa tenuta agricola settecentesca che deve tornare a produrre produrre grano produrre olio produrre formaggi produrre prosciutti produrre carni essere aperta anche alla tradizione venatoria nel rispetto delle leggi delle regole dell'ambiente quindi tornare ai cittadini quello che era un bene privato di un mafioso deve tornare un bene privato e pubblico dei toscani e degli italiani guardate che spettacolo alle spalle quindi cari bastardi mafiosi è finita la pacchia anche per voi e ringrazio polizie e carabinieri che in questi giorni stanno arrestando arrestando e arrestando non per merito mio non mi prendo meriti che sono miei forse qualcuno ha capito che è cambiato il clima spero che ci siano giudici che di conseguenza siano duri giusti e severi condannando le persone che vanno condannate però ringrazio le forze dell'ordine che stanno arrestando 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 da nord a sud perché ormai purtroppo la mafia non è più confinata solo da alcune città ma in tutta italia si deve capire che qua è finito il business avete capito mafiosi e scafisti per me siete le stesse merde non so se un ministro può dire merde però per me mafiosi e scafisti siete le stesse merde e in italia voglio che abbiate ben chiaro che avete finito di fare affari che per voi la pacchia è finita vediamo se anche su questo ci sarà qualche fenomeno che a sinistra ha voglia di polemizzare qua alle spalle c'è una piscina ecco io ho un caldo africano almeno questo e mi piacebbe fare un bagno antimafia nella piscina confiscata al boss alla faccia del boss e alla faccia di tutti i boss qua ci devono vedere i bimbi i bimbi la nostra gente che le vacanze non se le può permettere magari da anni e permettetemi con questo di ricordare che ovviamente le battaglie economiche su cui ci siamo impegnati in campagna elettorale continuano a essere una priorità e saranno una priorità mia e della lega io ovviamente mi occupo di mafia di immigrazioni di ordine pubblico di sicurezza però a tutte le donne gli uomini della lega e dei 5 stelle al governo l'impegno a cancellare la legge fornero a ridurre le tasse con una liquota unica a chiudere le cartelle esattoriali con equitalia a cancellare burocrazie e spesometri redditometri studi di settore quindi a rendere più veloce più snello più serio più dignitoso il mondo del lavoro è un impegno che ci siamo presi dateci una mano stateci vicini siamo qua da solo un mese quindi evidentemente non facciamo miracoli mando un bacione ai rosiconi di sinistra che non sanno più cosa inventarsi si inventano le polemiche inesistenti sulle atlete di colore che sono un attacco a salvini alla lega sono mie sorelle il mio problema sono gli immigrati clandestini non il colore della pelle anzi vi dirò di più stamattina ho fatto due passi in giro per siena per vedermi questa splendida città incontrare le persone senza filtri decine decine di foto di abbracci di commenti di suggerimenti di consigli di strette di mano uno dei primi è stato un ragazzo senegalese qua da anni rispettosamente che andava in comune anzi andava in questura a ritirare la sua cittadinanza ecco l'immigrazione positiva pulita che porta idee porta energia e porta rispetto e la benvenuta il mio problema sono i delinquenti come quello che stanotte ha ammazzato a pugni pensate a pugni a sessa urunca in un ospedale un immigrato che ha ammazzato a pugni un 77enne italiano come cacchio si fa a morire a 77 anni dopo una vita di lavoro immagino in un ospedale italiano per uso a pugni da una di queste risorse che ci dovrebbero pagare le pensioni perché c'è ancora qualche fenomeno penso anche al presidente dell'inps ci sarà tanto da cambiare anche in questi apparati pubblici parapubblici e parastatali che dice ma senza immigrati è un disastro non si può toccare la legge fornero e senza immigrati l'italia sarebbe un disastro come il governatore della toscana rossi uno degli ultimi amministratori di sinistra rimasta in questa splendida terra verde che tomea senza gli immigrati la toscana sarebbe un deserto di miseria ma come fai a dire che senza immigrati la toscana sarebbe un deserto di miseria ma guarda cos'è la toscana guarda cosa c'è alle mie spalle che aspetta solo di essere promossa valorizzata tutelata rilanciata altro che deserto di miseria ma stiamo scherzando io ringrazio voi soprattutto sapete che siete in più di 10.000 sintonizzati in questo momento in un martedì a ora di pranzo ringrazio col cuore col cuore con la testa ma soprattutto col cuore il popolo che è venuto a pontida che mi ha regalato emozioni straordinarie ringrazio voi che ci avete seguito in diretta facebook o su twitter o su instagram visto che se aspettiamo i giornali e i telegiornali italiani campacavallo quindi grazie a voi perché parte della rivoluzione che stiamo facendo è anche grazie alla rete che infatti qualcuno in europa vuole imbavagliare occhio teniamo le orecchie aperte il bavaglio su facebook le fake news il diritto di cronaca il copyright stanno cercando un modo per imbavagliare noi e soprattutto voi perché tornate a informarvi solo dalle radio ufficiali le televisioni ufficiali giornaloni ufficiali alla repubblica ecco un bacione alla repubblica e all'espresso che sono divertentissimi sono divertentissimi se non ci fossero bisognerebbe inventarli ma grazie a voi perché buona parte della rivoluzione stiamo facendo a costo zero grazie alla vostra idea la vostra energia la vostra voglia di parlare di condividere di contagiare i vostri amici grazie io adesso vado perché mattinata dedicata all'antimafia in toscana e tornerò con i sindaci e con la regione toscana in questa azienda agricola cercando di creare posti di lavoro perché qua si possono creare se ben sfruttate situazioni come queste tanti posti di lavoro per i ragazzi e le ragazze del territorio posti di lavoro veri e non quelli precari di tre mesi oggi pomeriggio a romare per ascoltare stasera le 20 e 30 tenetevi pronti perché si prepara un'altra estate d'emergenza per mancanza di donazioni di sangue e quindi ministro dell'interno cerca di ricordarsi di essere un 45enne e quindi insieme a voi sempre comunque grazie di cuore se voi tenete duro io non mollo di un millimetro un ultimo pensiero a quei poveretti a quei cretini che a bolzano ancora questa notte hanno scritto su qualche muro salvini muori ragazzi state male fatevi una vita studiate lavorate fatevi una ragazza un ragazzo fatevi degli hobby fate volontariato coltivate una passione ma che testa devi avere per andare sul muro di bolzano a scrivere salvini muori parte che lo prendo come un buon auspicio pensate di farmi paura guardate che paura che mi fate quindi idioti mafiosi e scafisti il mio sorriso lo allargate guerra senza quartiere è guerra è guerra dei buoni contro i cattivi degli italiani per bene contro mafiosi scafisti e terroristi per voi in italia la pacchia è finita ciao 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 ciao